Buongiorno a tutti, oggi è un momento importante per il Formez perché questi signori e signore di fianco a me sono le prime persone che entrano al Formez a tutti gli effetti con un concorso a tempo determinato. Sono anni che questo non accade ed è importante questo perché rappresenta un punto di svolta per tutta la comunità del Formez. Oggi si chiude veramente una stagione se ne sta a prendere un'altra. Grazie ai membri della Commissione che si sono fatti carico della selezione, è stata una selezione importante, lunga, onerosa perché sono state letteralmente centinaia di candidature, selezione che porterà non solo questi quattro primi colleghi che entrano al Formez ma anche tutta una serie di altri colleghi che in futuro, nelle prossime settimane si uniranno a noi per rafforzare la nostra capacità di lavorare a meglio e servire i nostri clienti.